Tentato omicidio, lesioni aggravate e rapina e con queste accuse che si trova rinchiuso in carcere a Vicenza un cittadellese di 46 anni originario di Campo San Piero. Su cosa abbia scatenato la violenta aggressione dell'uomo, LR le iniziali, nei confronti del cognato, picchiato con forza alla testa e agli arti con una mazza da baseball, sta indagando la polizia di Bassano del Grappa e presto sono attesi sviluppi sui motivi che hanno portato l'indagato ad un gesto di questa violenza. L'aggressione con mazza da baseball si è consumata ieri notti a Tezze sul Brenta nell'abitazione della vittima che ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Bassiano. Terminato il pestaggio l'aggressore se ne è andato portando con sé il cellulare del cognato da qui anche l'accusa di rapina. È stata poi la coinquilina della vittima rincasata con un amico a caricare il ferito in automobile e correre al pronto soccorso del nosocomio bassanese. Da quanto appreso prima di muoversi da Cittadella alla volta di Tezze sul Brenta l'arrestato avrebbe manifestato le proprie intenzioni alla moglie che allarmata avrebbe avvisato il figlio 22enne su quanto stava per fare il padre. Le forze dell'ordine lavorano per ricostruire i fatti nel dettaglio. Per ora di certo c'è la sfilza di accuse col quale il Cittadellese è rinchiuso in carcere.